E' una di quelle persone che sta vicino, si respira talento, in cosa si ispira la grande Emi? The Walk-Up Questo è un buon inizio, questo è cosa beve? No, un po' di tutto, solo che è sempre mischiato con qualche sostanza stupefacente E' chiaro, come fanno tutti i grandi rocker, si appogli pure... No, no, venga, venga su, certo, lei condurrà sicuramente una vita sempre sballottata di qua e di là Un grande albergo da una parte e dall'altra Ecco, vi dica quante specchiere ha rotto, quante specchiere ha rotto durante le sue permanenze negli alberghi Anche, però a me soprattutto piace dare lo strunzo a tutti quei tempi Ma ci ho finanziato la picchia regularmente Certo Ecco, ma... Ecco, lei... Può cantarci qualcosa? Può cantarci qualcosa, Nani? Ma... Sono un po' sonata, però... Vabbè... Sì, puoi ci farmi sentire qualcosa? Marta così, Marta così, Marta così, eh! Mi devo pensare, forse, forse, forse... Gene, stasera la signorina non può guidare, chiama un taxi? Brava, chiama un taxi, chiama un taxi, bravissima, finalmente ha fatto una cosa giusta Noi oggi vediamo un documento verità, andiamo alla scoperta di come gli italiani alcol e droga a parte Cerco di reagire alla crisi, guadagnando cerchi un po', eh, mi? Eh, mi? Eh, mi? Non lo faccia, eh, mi? Non lo faccia, non lo faccia, non lo faccia Grazie a tutti